bene ragazzi eccoci con un nuovo episodio di Tales of Arise siamo rimasti e invece di proseguire con la storia mi faccio un po di missioni in giro in giro no per adesso la storia è un po deludente sinceramente molto deludente perché già il primo capitolo ci poteva stare il secondo proprio tirato per questo proprio non ha senso con questo capitolo se l'ordere in buona fede non ha capito niente di quello che succedeva intorno al suo paese ci può anche stare ma perché poi dopo li dovrebbe attaccare e poi dovrebbe far parte del gruppo dopo non lo so no 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 sel sono Eccolo... Hmm... Hmm... Va bene, questo è il lavoro per il nostro scudo, per proteggere il mio regno. Il problema è che non è il tuo regno, è il tuo regno e poi te ne vai. Dove abbiamo lasciato una scenata, no? Aspetta, sì, l'abbiamo lasciata. Sì, l'abbiamo lasciata, l'abbiamo fatta. Sì, l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, l'abbiamo lavorando insieme. Non dovete fare questo più difficile. In caso di aver scusato, noi due di noi magari lavoriamo insieme, ma l'unica ragazza che ci stiamo lavorando insieme, ma l'unica ragazza che ci stiamo lavorando insieme... Io non sono un scudo! Non sono ancora un scudo. Non da quando ho chiesto di combattere. La mia roba è la mia roba! L'abbiamo fatta! L'abbiamo fatta! L'abbiamo fatta! Non vedo molto iniziare. Cosa cosa probabilmente vediamo? Vediamo che ne vanno... Non vediamo perciò che ci vediamo. Se è il battle che vogliono, Cosa probabilmente... Probably inside the Revelle prison tower in the plaza. That's where the lord here... The same building with the spirit vessel that... We need to be careful of how we go from here. The fact Ganabelt knew about my healing arts and had that... He's not dangerous. He's just a rat bastard who's getting... I'm telling you, don't underestimate him. We don't... One misstep on our part is all it's going to take to give him what he... Dad, I guess it'll have to stay unspoken and unheard. Ok, sembra che l'abbiamo letti tutti. Ok. Oh, che cos'è? Beh, che sta così? Dovrei dare effetto più venti. Ah, che no, lo posso fare per quello così. Allora. Ok, ripristino il PC. Oh, bene, bene. No, Kisara, dai. Parliamo con Kisara. Maintaining your shield? It's becoming a familiar sight. Migal was the one who taught me how to maintain my equipment after I first joined the guard. Now, it's just a part of my routine. Your brother always seems to come up whenever I talk to you. That's because we had no other relatives. So it was just the two of us growing up. He was my idol. When I became a guardsman, Lagiel wasn't too pleased to see me at first. It was Migal who really welcomed me aboard. Lagiel? Oh, right. She was Migal's second in the Gold Dust Cats, wasn't she? That's right. She's always been a very critical and down-to-earth person. In other words, the complete opposite of a dreamer like me. You're more an idealist than some pie-in-the-sky dreamer. Even so, that's my brother's doing. He'd never let me stop seeing a brighter world. You must have meant a lot to him. He wasn't just kind, either. He always worked so hard to set an example for me and everyone else around him. So much so that when he thought I was asleep, he'd slip out of the house to go training on the outside. You seem to know a lot about it. That's because I only pretended to be asleep and would follow after. Hmm. You know what? I'm at a good stopping point with my shield. If you've got time, how about I tell you a couple more Megal stories? Eh, mo' ti sii fregato. I guess I'd better get comfortable. N'è una chiacchierona, chisara. È stato a posto di Sean. Before we go, go over there. Mamma mia. Ah, aspetta, non ho visto il livello. 26, terra. Ok. Perfetto. Devo ricordare quando attacca? Oh, vedi che ho parato Ah, chi che ha fatto fuori? Ah, ok, aspetta Aspetta Fammi cambiare che ho messo quello lì, poverino Lo fanno fuori in due secondi Ok Oh, basta, mi scocciavo Mi è andato Ma dove va? Oh, è errato Eh, lì è andato al limite Eh, no Lasciamo Fallo fuori Proprio devastante Non dovrebbe caricare Ma matto fuori E adesso sta leggermente incazzato Non stanno attendi a non stare nella sua scia Affen Non ce la tirano a Milano Non ce la prendo io Oh Oh, carica Brutto Carica Brutto Oh Ma io ho caricato Ma manco il limite mi fa Scusi, sto senza vita Mi anda Ah, fa lui il limite Ecco perché fa così Non ce la prendo io Sì 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 Grazie a tutti 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 Quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Ma tutti sti libri da dove li ha presi? Forse sono gli attacchi? Mostra l'arma di tipo natura viva, l'acqua domate, l'arma di tipo luce radiosa, quindi devi mostrare delle armi. Perfetto. Questo è un altro mosso super potente. Vediamo, ma dove sta? Perfetto. Molt moved. Perfetto. 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 Grazie a tutti 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 E' quella della biblioteca che ha? E si sblocca con le armi Va bene si pesca Sì, questo è Tocca Pond E mi sembrava salvare la mia vita Una volta in un momento Cosa significa? Come un figlio, ho avviato la vita sotto i ultimi lordi Per evitare qui quando ho bisogno È terribile a sbocciare Ma è bello per trovare una bocca per la cena fuori da Renan e Ize Inizialmente, i nostri rassi non avevano sufficienti per vivere Tu hai dovuto prendere le cose se volessi sufficienti alimentare Ma come hai trovato le cose? Con le tue le mani? Questo può prendere un tempo Poi i pesci sono sicuri per scappare la prima cosa di problemi Poi mettere un bait o una line e lo usare con una roda di pesca Hai dovuto non essere familiari con pesca, se questo sembra nuovo Diciamo che ti faccio Diciamo come è stato fatto Lanciare, attirare un pesce Prenderlo a lama e tirare a sè Ah, devo fare riferimento ai comandi della pesca Sì Ma questo mi sembra bello grosso Sì Ok, quindi ci serviranno canne? Una desca diversa Sì 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 Non è sicuro perché non ho una. Tutti i altri denti, loro tendono a mantenere la distanza da me per evitare attraversare l'attenzione dei soldati. Perché di mia masca. E cosa per te, Kisara? Hai ancora il tuo spirito? Non. C'era un buon doctorale di Renan che è simpatico con il nostro tipo e hanno fatto che le riempire il prima di riuscire. Ci hanno fatto un ottimo lavoro, la procedura... Uno dei benefici della coesistenza, no? C'è una volta che il tuo spirito, non c'era molto necessario per me riuscire. Ma ancora, non mi piace di avere... Può sembra un po' strano di hear me dire questo, ma... Sono solo me, non un guarda. Questo è una riuscita strada. C'è un po' che... C'è un po' che non è usato? Riempire attraversare tempo e esforzamento, che in nostro mondo significa che i soldati. Ah... Per te, è un po' semplice riempire, ma questo può diventare un altro... Dannons in il nostro gruppo, che facciano ora. È così strano come potremmo sentire un po' di me stesso. È vero che la maggioranza di Dannons in Calaglia sono riusciti. Ma ancora, non possiamo solo li scoprire per... Oh... Grazie a tutti. 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 ... 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 Sì, secondo me. Tutto questo cammino è iniziato a prendere il risultato anche a me. Cosa? Tu non lo guardi? Non possiamo spare il tempo, ci sono alcuni locali che bisogna essere. Il capito di Mahogsar, Niaz, è il nostro destino. Ma se uno di noi perdita, ciò che ci permette solo per aiutare. E in tuo caso, Alphen è l'unica che potrebbe portare a te. È meglio che resta quando hai l'opportunità. Mi... È già sufficiente. Ho bisogno di un paese, quindi andiamo a prendere. Non ho bisogno di fredare a me. Fredare? Hey, non è come... ... ... ... Ben looking for you. For me? Why? Who are you? You said you were looking for me. Why? Beautiful, precious life. What the...? That is all I desire. Then why are we fighting? Who even are you? Hmm. Double damage! Move it! Here, here's charm! No chance! Here, monster! I love you! There you go! I love you here! To stop you dying, stop! Tornado! Take it! Take this! I'm only getting started! Dragon form! Megasonic thrust! There, here! May a thousand gales scare you to shred! No! Then... Goals! Press, turn aim on? Now go! Now go on & worship... 3 times a day! Y sip it! It is..." They are assassination! Is itibus? It's about 5勇 because... Grazie a tutti. Ma ehm... Lo so curare? Ok, è finito. Ma cosa mi dici che dobbiamo morire? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma stavamo tanto bene per i pattacci nostri. Cavolo. Vabbè, c'è distrutto. 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 è infilzato, va tutto il bene è immortale non è così buono non è buono non è buono è... Sion, abbiamo pensato che... è bene, davvero cosa stai pensando? beh, hai cercato di proteggere me anche, sai? sì, ma ho la scuola, è diverso non è diverso non è diverso anche, io... non è niente è niente comunque, grazie non è vero Sì, guarda, mi piacerebbe che sei... Alfin? Scusate, io... Sì 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 Anche così, credo che Dohalim potrebbe poter... Beh, per esempio, credo che sia bello per te sapere come vestire, e prendere i bambini, come vestire... Si sembra come la mia mamma, razzendo all... Oh, e una cosa, sull'occhio, Rinwell. W-what'è? Quando il comincia a molte, potresti daremi i miei vecchi pezzi? Penso che potrei trovare un uso per loro. Cosa vuoi fare? Beh, recentemente, non sono stato bene dormito. Non è bene, ma io ho sento che i bambini di orecchie sono... Questo è quello che ho amato! Mi chavo qualcosa di offensivo? Nel prossimo, mettere le nostre necessità per un secondo e pensare come si può reagire prima. E poi considera... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete continuare a seguire la storia iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao, ciao.